Incontrerete un po' di bulli chiacchieroni nel corso della vostra vita. Di solito le persone cercano di farli tacere con insulti ed aggressioni ed altri preferiscono andarsene da quelle interazioni per evitare quel tipo di negatività. Ma c'è un terzo modo potenzialmente più funzionale per avere a che fare con queste persone tossiche. Russell Brand, per esempio, cerca di prendere il possesso della conversazione invece di finirla. Questo gli permette di difendersi senza passare per uno stronzo. E questa sua intervista con tre ospiti al MSNBC Morning Show è un esempio perfetto delle strategie migliori che potete usare per conquistare ogni bullo in qualsiasi conversazione. Quindi cominciamo con occuparci velocemente dei modi migliori per le interazioni di gruppo. Poi passeremo a cosa fare quando le cose vanno male. Una regola generale di tutto ciò è che dovete essere sicuri di non entrare in una conversazione solo per essere tagliati fuori. Altrimenti le persone crederanno inconsciamente che le vostre opinioni non hanno valore di essere ascoltate. Quindi quando cominciate a parlare è meglio continuare a farlo fino alla fine della vostra frase e rifiutarvi di essere interrotti durante i lunghi monologhi. Dovete parlare con un buontempismo, almeno per terminare ogni frase prima di arrendervi a qualcuno che sta cercando di interrompervi. Questo porterà le persone ad essere più propense ad ascoltare quando condividete le vostre opinioni. E potrete contrastare quel sentimento che sentite quando guardate Russell farlo. E ora con il giovane Jaden Smith che non lo fa. Non è che i pensieri di Jaden non abbiano importanza, è che non aveva ancora imparato a parlare con abbastanza convinzione da essere preso sul serio. Finendo le vostre frasi, incoraggiate gli altri a rispettarvi di più. Il prossimo principio, che è estremamente di valore in ogni situazione di gruppo, è trattare ogni membro come un individuo. Un modo concreto per farlo è riferirsi ad ogni persona con il suo nome. Ammetto che questo può sembrare imbarazzante all'inizio, se non siete abituati, ma in realtà ha un effetto davvero positivo sulla persona che sta ascoltando la sua parola preferita, il suo nome. Anche se non conoscete i nomi delle persone, potete mostrare di dare valore ad ogni singolo individuo, prendendo il tempo di guardare ogni persona mentre parlate, specialmente se qualcuno è silenzioso o timido. Prendervi quei tre secondi per un contatto visivo con loro mentre parlate ha davvero importanza nel farli sentire inclusi. Se vi accorgete di aver perso l'attenzione del gruppo mentre raccontate una storia o fate una battuta, questa è una delle soluzioni più veloci. Date ad ogni individuo un paio di secondi della vostra pura attenzione per tenerli incollati. Alla fine ci piacciono le persone che sono come noi e a cui piacciamo, quindi quando siete in un gruppo aiuta sempre a enfatizzare le similitudini con gli altri membri. E fare dei complimenti genuini. Avete visto Russell fare tutto quello che vi ho detto, ma a volte le conversazioni diventano stili nonostante i vostri miglior tentativi. Quindi voglio mostrarvi come disarmare le persone che diventano aggressive in un modo che è sia implicito che carismatico. La prima cosa da capire qui è che probabilmente i mezzi più potenti che avete per influenzare il tono di una conversazione sono i vostri segni non verbali. Possono essere racchiusi in segnali forti e segnali deboli. Quando mostrate quelli più forti otterrete di più di ciò a cui state rispondendo. Mostratene di meno e otterrete di meno. Per esempio guardate come Russell fa in modo che Mika passi dall'essere maleducata e passivo-aggressiva a fargli dei complimenti in modo da avere la sua approvazione. Primo abbiamo quello sguardo calmo negli occhi, senza malizia e senza un sorriso. Questo fare in modo che chiunque sia maleducato si senta a disagio mentre lo fa. Secondo, non prestare attenzione a quelle persone farà in modo che cambino il loro atteggiamento. Vedete l'attenzione di Russell che vaga e immediatamente fa sentire la conduttrice che deve fare di più per essere gentile per poter avere di nuovo la sua approvazione. E terzo, il silenzio prolungato. Questo è uno dei modi non verbali più potenti che avete a disposizione. Quando le persone sono maleducate potreste sentire l'impulso di parlare immediatamente oppure sorridere per sdrammatizzare la situazione. Ma Russell non lo fa. Aspetta finché Mika non gli fa un complimento e poi parla velocemente. Ora che lei è passata da quella maleducazione ed è ritornata gentile, lui le dà dei segnali più forti. Questo funzionerà in due passi fondamentali dove lui dice non fare così ma così. E vedete se riuscite a trovare altri segnali come questi. Prima Russell complimenta verbalmente Mika per quello che dice. Richiamare qualsiasi tipo di comportamento che apprezzate ne porterà altri. Poi ricambia il suo complimento e alla fine diventa giocoso e sorride. Tutto ciò è in cima al fatto che lui sta avendo a che fare con loro in un modo molto più entusiasta che fa scomparire la tensione che stava salendo e che viene associato con forza con un modo di comportarsi più educato. Alle persone non piace la tensione nelle conversazioni. Quindi non sbarazzatevene mentre loro si comportano male. Aspettate finché non sono gentili. Tutto ciò fa parte di un forte segnale di comportamento che si unisce a delle affermazioni non verbali sul tipo di comportamento che lui si aspetta durante questa conversazione. Lui continua a mandare questi segnali prestando molta più attenzione a Mika che si sta comportando meglio invece che all'altro ospite Brian che continua ad essere maleducato. E infatti Brian comincia a fare dei commenti sul perché non riusciamo a capire l'accento di Russell. Cosa fa Russell? Lo ignora completamente. Questa è una grande strategia. Questo in effetti rende la prossima domanda di Brian molto più educata e vediamo Russell rispondere positivamente. Voi potete fare la stessa cosa nelle conversazioni di gruppo. Se qualcuno sta insultando in un modo passivo, aggressivo e maleducato, prestate attenzione ad altri membri del gruppo. Giratevi così che il vostro corpo guardi quelle persone, sorridete, coinvolgeteli anche in modo rumoroso. Non dovrebbe volerci molto prima che la persona maleducata dica qualcosa più gentile. A quel punto potete portare la vostra attenzione verso di lei. Un'ultima opzione indiretta è quella di fare una sorta di richiamo dove parlate di un tipo di comportamento che non vi piace. Magari un tipo di comportamento che qualcuno in quel gruppo sta mostrando in quel momento, ma permettete a quella persona di salvarsi dall'umiliazione evitando di rivolgersi direttamente a lui. Si tratta di quel tipo di persone che lo fanno con un sorriso, per ricordare a quella persona che siete ancora dalla stessa parte, che non devono essere il tipo di persona che state descrivendo, e non state ancora dicendo che lo siano. Guardate come Russell lo fa nella sua risposta. Questo tipo di strategia potrebbe essere considerato come un modo subdolo per influenzare il tipo di qualsiasi conversazione. Immaginate di essere ad un evento di networking e di fare un complimento ad un gruppo sul loro entusiasmo. Se parlate di altri tipi che sono un po' noiosi, potete scommettere che l'energia di quel gruppo si alzerà per arrivare a quella reputazione stellare che avete dato loro, e per non essere come quelle altre persone. Ora, sfortunatamente, questi segnali non vengono colti nel caso di Russell, come succede spesso, ma spesso nella vita reale gli ospiti continuano ad essere maleducati. Brian dice improvvisamente che non riesce a capire l'accento di Russell. Qui un altro ospite si dimentica il suo nome. E ora cominciano tutti a parlare di Russell in terza persona, come se non fosse presente. Dopo quello non verbale e quello indiretto, questi tipi di richiami a volte devono essere diretti, e dovete dire senza peli sulla lingua che tipo di comportamento vorreste cambiare. Un sacco di persone però lo sbagliano e rendono solo le cose ancora più ostili. La chiave qui è criticare dei comportamenti specifici, non le persone che lo stanno facendo. Quando dite che qualcuno è uno stronzo, probabilmente li metterete sulla difensiva, e non specificate come vorreste che cambiassero. Invece, quando dite non chiamarmi così, oppure non urlarmi addosso, probabilmente otterrete davvero quello che volete. Ovviamente quello che Russell fa qui è difficile. Rimanere abbastanza calmi per mantenere il contatto visivo, non agitarvi quando le persone assumono un tono maligno, e mantenere quel senso dell'umorismo durante tutto ciò. Molti di noi probabilmente suderebbero e reagirebbero meno o più del dovuto. Quindi voglio condividere giusto un'ultima mentalità che richiede un po' di tempo per essere sviluppata, ma che vi aiuterà un sacco. Dovete imparare a staccare il vostro ego dagli attacchi personali. Guardate come Brand è capace di incassare una critica personale, e cioè che lui non sia qualificato per parlare di un argomento preciso, e come lo lascia passare come se fosse disconnesso da quello che vuole dire. E qui guardate come Brand è capace di vedere come qualcosa è offensivo, senza sentirsi offeso personalmente o mettersi sulla difensiva. I want to bring you a sign, first of all. This is fag pimp brand. Absolutely, absolutely. Make yourself comfy, mate. Now this, of course, is clearly offensive. As an object. A differenza di molti di noi, Russell non sente il bisogno di difendersi da attacchi personali, perché lui non ha davvero a cuore quello che la maggior parte delle persone pensano di lui. Non butta le energie mentali nel proteggere il suo ego, il che gli permette di essere più sarcastico davanti alle critiche. Paradossalmente, il non difendersi lo mette sotto una luce migliore rispetto all'opposto. Stavo pensando di fare un video con i diversi trucchi che potete usare per l'umorismo, incluso lo sviluppo di un sarcasmo veloce. Se la cosa vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. Comunque, una delle cose che vi permetterà di staccare il vostro ego da qualsiasi tipo di attacco particolare è un senso più profondo di accettazione. Se siete a vostro agio con voi stessi, quello che le altre persone pensano o dicono non vi disturberà e vi faranno arrabbiare di meno, perché conoscete tutto il vostro valore e questo non arriva da ricevere complimenti o dall'essere amati. Arriva dalla fiducia di essere abbastanza. Le opinioni degli altri non importano. Parleremo anche di tutto questo in un altro video che uscirà tra circa un mese. Se vi interessa, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche. Preparatevi che sono in arrivo grandi novità per il mese di settembre. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.